Abbiamo assistito in questi giorni a, tra virgolette, un lieto evento. Abbiamo visto arrivare la gru in piattaforma logistica, teoricamente anche la prima nave che arriva in piattaforma ed è un bel segnale. Dopo anni di cantiere, di lavori, adesso si comincia a lavorare sulle sovrastrutture, non solo sulle infrastrutture. È chiaro che è un grosso importante segnale sulla capacità operativa della piattaforma che nei prossimi mesi vedrà arrivare le vere navi, non solo quelle che portano i macchinari. Quindi è un bel momento, un bel evento, il porto continua a lavorare, cresce e sta accogliendo un po' alla volta la nuova creatura che è la piattaforma logistica con le sue gru e con la sua operatività. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.